Settantaquattresima Benvenuti a Cascate di Lombardia, la trasmissione che attraverso viaggi ed esplorazioni ci porterà alla scoperta delle più belle cascate e dei più belli oridi naturali della nostra regione. Ok, buona! Aiuto! Bravissima dai, sei giù, sei giù! Senta la pozza! Vabbè, la pozza è il minimo, l'importante è uscirne viva! Un altro non va bene perché le turbine le vediamo... Questa è la ruota, mettiamoci qui vicino così... Troppo, troppo, troppo! Troppo, Barbera ragazzi, troppo, Barbera! Sei giorni di cammino... Ma finalmente se l'abbiamo fatta arrivare in vetta! We will, we will rock you! Sing it! We will, we will rock you! Buddy, you're an old man, poor man, pleading with your eyes, gonna make you zombie someday, you got mud on your face! Big disgrace, somebody better put your bag into your place! We will, we will rock you! Alle nostre spalle vedete la suggestiva cascata... Da dove arriva quest'acqua? Vingo! No, non abbiamo detto come si chiama... Scusate, ma non mi ricordo mai come c***o si chiama... Fermona! Fermona! We will, we will rock you! Sing it! We will, we will rock you! Everybody! We will, we will rock you! We will, we will rock you! We are so beautiful! If you do, we'll rock you! Leave... Yes! If you do is it! We will rock you. The clue I can do exactly what happened. We are so特別 realistic! I'll rock you! Eh eh, l'ifo... Adesso capisco quando fanno le prime di... Per me non è mica finita.